buonasera a tutti ragazzi bentornati sul canale è finito il campionato insomma finito questo campionato nel bene o nel male quindi come avevamo detto a partita Ascoli è andata come doveva andare né più e nemmeno e quindi noi finiamo vabbè siamo salvi va bene così insomma inutile stare a vedere i risultati di classifica di quest'anno perché tanto tanto è cosa dire niente fondamentalmente diciamo così il mistro ha messo la formazione inedita ma giusto che sia così ha fatto giocare De Vitis Moreu dall'inizio insomma Torregrossa poi Torregrossa con il colpo di tacco che ha condannati alla sconfitta bravo da Alessandro perché insomma alla fine ha fatto una rete micidiale ha diciamo entrato nell'area fatto uno slalom e poi è tirato e ha segnato bene basta non ho già detto il siamo l'errore banale cose da non fare da partitore grossa centro al centro al centro centro del campo insomma quindi abbiamo preso la rete su questa diciamo su questa questo colpo di tacco che voleva essere una rifinitura e invece è stato una diciamo così per noi è stata la diciamo la fine della partita bene basta non ho da dire nient'altro anche perché l'unica cosa che voglio dire questa poi approfondiremo via via io penso settimana prossima appena possibile faremo una live io e Matteo insomma su quello che è stato diciamo così il campionato su quello che poteva essere su quello che non poteva essere eccetera eccetera poi andremo a valutare che sei contento? No non sono contento ovviamente perché per i soldi spesi dalla diciamo così dalla società secondo me questo questo risultato o meglio questo piazzamento in classifica per quest'anno è sicuramente deludente io vi invito a commentare ma è sicuramente deludente io credo per i soldi spesi diciamo così dalla società che dire più sono contento alla fine per mister d'angelo perché è riuscito a salvare una società una squadra diciamo così alla diciamo così alla catastrofe quando è arrivato a spezia è riuscito a salvarla quindi io credo che il gioco di d'angelo sia una spanna superiore con giocatori che uno ha a disposizione disponibile a quello di di Aquilani ma è un mio pensiero personale questo è il discorso poi io credo che comunque il predestinato andrà ad allenare una squadra di serie A era destinato no? Predestinato destinato alla serie A e quindi ha fatto un anno in serie B qui a Pisa bene o male che sia lui ha fatto la serie B e quindi andrà ad allenare la serie A predestinato per la serie A ma non credo che non credo ripeto che andrà ad allenare il Pisa in serie A non credo quindi questo è il discorso quindi allenerà sicuramente la Fiorentina in serie A poi quando sarà il momento gli augurerò tutti i beni e le fortune nella sua carriera bene detto questo quando sarà il momento e se sarà io credo di sì ma voglio dire questo è un mio pensiero personale oh per detto questo andiamo a vedere io credo spero che insomma la società metta le cose a posto in questo perché così possiamo solo sperare di galleggiare quindi se a fare un altro campionato di B a galleggio poca pazienza non so cosa ne penserà abbiamo capito tutti a chi mi riferisco poi abbiamo Beruaccio abbiamo Moreo in Torregrossa che credo che abbia finito di dire la sua Matteo Tramoni che dopo rientro di Palermo ma non è colpa di Matteo è proprio il discorso assetto squadra che non va con i giocatori che abbiamo e con l'idea di qualcuno che ripeto si chiama predestinato insomma io Nicola sebbene d'Alessandro ok c'è qualcuno da salvare sicuramente sì c'è qualcuno da vendere qualcuno tanti sicuramente sì quindi io terrei pochi elementi il giusto e venderei sicuramente tanti elementi ma questo poi lo andremo magari a valutare se a Matteo questa è diciamo così la chiusura di questo campionato che lascia la mano in bocca una squadra cioè un giocatore che secondo me è potenziale per andare a playoff l'avrebbero anche avuto ma è il vorrei ma non posso che ci ha tirato il freno a mano avete visto no poi i nagi insomma via discorrendo senza stare qua sono andati a spezia hanno dato il suo ripeto sono riusciti a salvare una squadra e qui con tutti questi elementi che abbiamo non siamo riusciti perché sì siamo in caponiti con Moreo con Moreo con Moreo ed altri e m'laccare e m'laccare e poi vabbè e poi tanti tanti altri discorsi cioè incaponirsi 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 secondo me hanno fatto modo di non dare quel tocco necessario a questa squadra a questi giocatori ma ripeto è un mio pensiero personale io per questo video la chiudo qua perché la chiudo qua mi raccomando pollice su ovviamente sempre se vi è piaciuto questo video sempre se vi è piaciuto questo video commentate perché i vostri commenti sono preziosi poi io vi rimando alla prima occasione che faremo ripeto una live e andremo a vedere a tutto tondo insieme a voi quello che poteva essere o non poteva essere questo campionato io la chiudo qua e vi ricordo una cosa Pisa resta e tutto il resto passa alla prossima